Cuoricin ma secondo voi io con questo qua dove starò mai andando e dov'è l'altro dov'è l'altro dov'è l'altro dov'è l'altro dove sta l'altro ci penserò io a loro due oggi ci sono messi bene allora molto bene molto bene Ale non è divertente sì che lo è non è divertente ti ho chiesto di prendere il mio knife per chocolate coffee guarda che simpatico ora dopo Anita che sa stare agli scherzi questo mega shake se lo beve tutto è coraggiosa vi lascio con Marco Fortunati allora mi ero promesso di rendervi partecipi della mia giornata di oggi ma il problema è che ci sono 9 gradi c'è un freddo boio sono tornato con la felpa invernale ne ho pieno il stava dicendo il nostro Marco ne ho pieno il abbiamo tagliato il video mi ha messo Letizia Petris poi i cagnoloni di Letizia Petris momento cane io ce l'ho sempre nei video e Angelica Baragli un bacio ciao ciao